Signore e signori buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria, da me e da un nuovo video in cui torniamo a parlare dell'occupazione italiana dell'Albania utilizzando questa bella, questa eccellente piccola monografia scritta da Daniele Notaro. Allora signori, come vi ho detto nei precedenti video l'invasione dell'Albania non fu un'operazione estremamente rapida, un'operazione molto veloce e molto rapida che si concluse con come dire relativamente poche perdite, relativamente perché oggettivamente ci fu una grossa disorganizzazione, ci furono dei grossi 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 problemi soprattutto logistici. Ma sentiamo un po' che cosa ci dice Daniele. Le perdite italiane, secondo l'allegato numero 6 della relazione sull'azione militare in Albania nei giorni 7, 8 e 9 aprile 1939, redatta dal generale Guzzoni nel maggio 1939, ammontavano un ufficiale caduto e 18 feriti, un sotto ufficiale caduto e 8 feriti, 10 caduti e 64 feriti tra la truppa. Va attestato che la maggior parte dei caduti facessero parte della regia marina. Nel libro Albania at War 39-45 di Bernard Fischer invece si afferma che gli italiani ebbero almeno 700 perdite di cui solo 200 a Durazzo. Le perdite albanesi sono sconosciute. Fischer le stima come superiori a quelle italiane, quindi sopra i 700 uomini, ma non ci sono dati certi. Daniele fa bene a citare il libro di Fischer, ma oggettivamente non sappiamo fino a che punto le cifre fatte da Fischer possano essere plausibili. Ma continuiamo. È in dubbio, ci dice Daniele, che l'operazione venne organizzata male ed ebbe grossi problemi, soprattutto dal punto di vista logistico. Lo stesso capo di gabinetto del ministro degli esteri, Filippo Confuso, quello che era soprannominato il bell'Antonio. Dichiarò a Ciano che se gli albanesi avessero disposto di una brigata di fuoco ben equipaggiata, potevano rigettarci nell'Adriatico. Allora in realtà, come dire, la cito per amor di conoscenza. Questa battuta, ovvero sia la battuta sugli albanesi che ci potevano buttare a mare se avessero avuto un qualche cosa di efficiente da contrapporci. Qualcuno la, ripeto, qualcuno la affida a Danfuso. Qualcuno la dice che sia direttamente di Ciano. Altri affermano che sia di bottai. Varia leggermente perché, secondo alcuni dei miei libri, questa battuta sarebbe se gli albanesi avessero avuto un corpo di pompieri efficiente, un corpo di vigili del fuoco efficiente, ci avrebbero ributtati a mare. Ma queste, diciamo, che si tratta, io ripeto, nei miei libri questa frase è citata in due o tre modi diversi e viene attribuita, ripeto, ora ad Anfuso, come ci dice Daniele, ora a Ciano, ora a Bottai, ora a Specchiera, Sante Palle, adesso c'è un momento di buco, Anfuso, Ciano, Bottai e anche ad altri viene attribuita. Adesso scusatemi, non ho come dire, non ho certo la possibilità di andare a controllare, ma fidatevi, vi prego, fate quest'atto di fede. I problemi vennero però anche sottolineati nella già citata relazione sull'azione militare in Albania nei giorni 7, 8 e 9 aprile 1939, redatta dal generale Guzzoni nel maggio 1939 e dalla relazione sull'ispezione compiuta in Albania tra il 19 e il 26 giugno 1939, scritta il 29 giugno 1939, dal capo di stato maggiore generale Pietro Badoglio. Il nostro caro Pietro il galleggiatore, in entrambe vengono sottolineati moltissimi problemi come il gran numero di soldati richiamati i quali non sapevano usare le nuove armi o ancora peggio un elevato numero di bersaglieri ciclisti soprattutto delle classi 1901-1904 i quali non sapevano utilizzare le biciclette e le motociclette. Allora i borsaglieri ciclisti dovevano essere, erano già stati nel corso della prima guerra mondiale, una componente fondamentale per la mobilità delle nostre truppe. Un esercito oggettivamente, l'esercito italiano del 39 era oggettivamente poca cosa. Equipaggiamenti sprecati in Spagna, risorse bruciate in Etiopia, un paese, un sistema paese, un sistema industriale povero, arretrato e raffazzonato, un paese povero dove la bicicletta era un lusso e c'erano tanti, 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 tanti italiani che una bicicletta non se la potevano permettere, tanti, tanti, tanti italiani che in bicicletta non ci sapevano andare e come dire questa gente, questa gente ripeto, soprattutto delle classi 1901-1904, ve lo sia gente tra, diciamo i over 30, diciamo tra i 35 e i 40 anni più o meno che in bicicletta non ci sapevano andare e soprattutto messi nei bersaglieri ciclisti, cioè raggelante. Situazione ancora peggiore, ci dice Daniele, fu quella dei collegamenti radio i quali ebbero grossi problemi causati, tenetevi forte, soprattutto dalla scarsa capacità di utilizzo delle radio ricetrasmittenti da parte di soldati non addestrati. Tutto questo era causato da una mancanza di addestramento a tutti i livelli e lo stesso Badoglio affermò nella sua relazione che per amalgamare le truppe poi ci vollero ben due mesi di addestramento. Allora signori se andate indietro nella cronologia di questo canale forse troverete forse il video in cui citavo le parole del nostro caro Roatta nel 1940-41 al momento dell'invasione della Grecia e della Grecia in cui il nostro prode Roattone, il Roattone nazionale, il nostro proto food blogger preferito, si lamentava che i suoi sotto ufficiali non sapessero leggere le carte e usare la bussola. Lo stesso stramaledetto esercito in cui l'ex capo di stato maggiore dell'esercito, del regio esercito, ovvero sia il prode Alberto Pariani che nell'opera di Daniele appare più volte, diceva che ai suoi sottoposti diceva che non si doveva sprecare tempo per addestrare le truppe perché troppo addestramento in genera confusione nella testa dei soldati. Insomma, gente, mettetevi d'accordo tra di voi e mettetevi d'accordo col vostro cervello. Cioè, sante palle, cioè, che roba che se il generale Patton, se Patton avesse visto questa cosa e probabilmente la vista, ok, avrebbe dato letteralmente di matto perché Patton era quello che sosteneva che un litro di sudore versato in addestramento fa risparmiare galloni di sangue. Gli volete dare torto? Gli volete dare torto a Patton? Vabbè, lasciamo perdere, va? Meglio che sto zitto. Ok, continuiamo. Guzzoni ebbe anche dure critiche per l'azione di aviosbarco dei due battaglioni granatieri a Tirana, effettuato con molta lentezza, tant'è che furono necessarie due ore e 55 minuti, dalle 10 e 5 alle 13, per sbarcare dagli aerei tutti e due i battaglioni, con una media di un'ora e 25 minuti a battaglione. Entrambi, sia Badoglio che Guzzoni, descrissero il terribile errore dello sbarco dei fusti di gasolio al posto di quelli di benzina nel porto di Durazzo nella notte del 7 aprile, mentre Badoglio ebbe parole molto dure anche nei confronti degli ufficiali, per metà di complemento. La domanda che faccio io ai nostri cari generali è, porca miseria, ma dove diamine stavate? Dove porco cane eravate? Cioè già che Guzzoni, allora non buttiamo la croce addosso a Guzzoni, il piano per l'invasione dell'Albania era pronto dal 13 marzo, come ci dice giustamente Daniele, ma Guzzoni ne venne informato soltanto il 31, cioè il piano operativo venne consegnato da Pariani a Guzzoni il 31 di marzo che era già pronto da due settimane e l'operazione doveva avvenire, doveva partire il... insomma sì, scusate, lo sbarco doveva avvenire il 7 aprile. La domanda è, ma ci siete? Ci fate? Ci credete? Ci riuscite? Cioè la gloriosa e rapidissima invasione dell'Albania fu un disastro logistico con risvolti a dir poco grotteschi. l'errore dello sbarco di fusti di gasolio al posto dei fusti di benzina è forse il meno grave. Cioè ma vi rendete conto due battaglioni sbarcati sull'aeroporto in territorio ostile a Tirana che impiegano due ore per essere sbarcati dagli aeroplani? Ma sarebbe bastata realmente una cannonata per fare una strage? Cioè ma vi rendete conto? Cioè allora prendiamo prendiamo per esempio il disastro di Market Garden o se vogliamo una qualsiasi, una qualsivoglia operazione di truppe aviotrasportate durante la seconda guerra mondiale. In pochi minuti le truppe aviotrasportate anglo-americane ma anche tedesche erano in grado di scaricare a terra centinaia se non migliaia di uomini. Basti vedere c'è insomma l'invasione di Creta, l'invasione della Norvegia, Overlord, Husky oppure anche se vogliamo ripeto Market Garden che l'operazione fu un fiasco ma oggettivamente le truppe di Montgomery riuscirono ad arrivare all'ultimo ponte, i paracadutisti. Va bene ma ore per scaricare due cazzo di battaglio, scusate le parolacce ma non mi viene in mente altro, cioè due ore preziosissime per sbarcare dagli aerei due battaglioni. C'è un'ora e mezza quasi per battaglione ma siamo pazzi? Cioè ma siamo completamente pazzi? Per non parlare poi Daniele qua non la parla ma questa ve la racconto io, avete presente Ettore Muti, il mitologico Ettore Muti? Muti si beccò una medaglia d'argento in Albania per avere partecipato alla conquista, per essere entrato alla testa delle sue truppe per primo a Tirana. In realtà l'azione di Muti, vi dico solo una cosa, ci mancava soltanto Matley dietro che faceva perché Ettore Muti oggettivamente come testimoniato da diverse fonti, mi viene in mente alcune autobiografie di piloti che ho già, oddio, cioè praticamente l'azione di Muti in Albania può essere definita solo come una cosa. Dastardly e Matley. Dick Dastardly durante le wiki races. Uguale. Uguale. Cioè praticamente Muti prese un paio di... cioè arrivò, non fece praticamente nulla ma essendo lui il più bel petto d'Italia, essendo lui il simbolo del valore, dell'ardore, dell'ardire fascista, essendo lui il cocco della propaganda, prese gli venne data una medaglia d'argento semplicemente perché era arrivato a Tirana in macchina. Kendo io leggendoci, allora dovete scusarmi, dovete scusarmi ma come dire sono un po' incavolato, cioè mi fanno girare le scatole queste cose, cioè realmente, realmente. Daniele in poche pagine letteralmente demolisce, demolisce la vulgata sulla conquista dell'Albania. Un'operazione raffazzonata, un'operazione molto mal preparata, molto mal organizzata, veramente, veramente, veramente un disastro a livello logistico. Se negli eserciti alleati o nell'esercito tedesco qualcuno avesse pianificato un'operazione a questa maniera sarebbe stato preso e fucilato, o messo in carcere, o destituito. o per citare le parole di uno dei miei scrittori preferiti, James Herriot, se fossimo stati in paesi più totalitari, molto probabilmente i comandanti e i pianificatori dell'operazione per l'invasione dell'Albania sarebbero stati presi di notte e portati in un luogo nascosto per essere giustiziati con un colpo alla nuca e sepolti. Se qualcuno avesse osato organizzare una cosa simile sotto Stalin, molto probabilmente Vassili Mihailovic Blochin, il boia personale di Stalin, avrebbe, come dire, gli avrebbe freddati immediatamente con un colpo alla nuca. In un esercito come quello inglese o come quello americano sarebbero stati congedati immediatamente con ignominia. Ripeto, per disorganizzazione, lassismo, carenze di addestramento, faciloneria, superficialità, supponenza, incompetenza, l'invasione dell'Albania a me ricorda veramente tanto l'esercito francese tra il dicembre 1939 e l'aprile del 1940. La conquista dell'Albania fu un successo, ma fu anche un esempio della pochezza, della disorganizzazione, del pressappochismo degli alti comandi del nostro esercito. Nel suo libro I generali di Mussolini, Giovanni Cecini ci spiega che solitamente la sconfitta è orfana mentre la vittoria ha tanti padri. Nel caso italiano la sconfitta ha un padre nobile e tanti corresponsabili, tanti complici, altrettanti padri, ovvero sia molti di coloro che indossavano la greca da generale sul berretto. mi viene da chiamarlo dilettantismo, se non fosse un'offesa ai dilettanti, con cui venne affrontata, preparata, pianificata e messa in atto l'invasione dell'Albania è qualche cosa di agghiacciante. Anche perché oggettivamente nel corso dei mesi successivi i vari Badoglio, Graziani, Soddu, Visconti Prasca, Roatta, eccetera, 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 e tutto il cucuzzaro del ritardo, non fecero assolutamente niente, 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 non venne organizzato un programma di addestramento, non venne organizzato un programma di organizzazione, non venne migliorata la logistica, niente, di niente, di niente, di niente. Vero, le nostre risorse erano state prosciugate, inaridite, bruciate dalla sanguinosa e costosissima campagna di Spagna e dalla conquista dell'impero. E questo avrebbe dovuto essere, insomma, la campagna d'Albania avrebbe dovuto suonare come un violento campanello d'allarme, come le campane a martello, come la sirena dei pompieri, come un allarme a proposito dello Stato, delle nostre forze armate. Ma non ci fu niente da fare, porca miseria, non ci fu niente da fare. Tutti a darsi pacche sulle spalle, tutti a prendersi decorazioni assolutamente immeritate, tutti a farsi reciproci servizi di un certo livello, tutti a complimentarsi a vicenda fra di loro, tutti a fare a gara, a prendere, ripeto, medaglie non meritabili. Tanto abbiamo conquistato l'Albania, tanto abbiamo dimostrato la gloria e la potenza delle armi fasciste, tanto abbiamo dimostrato la gloria e la potenza dell'Italia, in realtà la conquista italiana dell'Albania non fu neanche una vittoria di Pirro, non fu neanche una vittoria di Pirro, fu una non vittoria, fu la presa in carico di un nuovo peso sulle disastrate casse statali, fu la presa in carica di un paese poverissimo, per non dire miserabile, fu la devastante dimostrazione che la prima devastante dimostrazione che la potenza bellica, che la bellicosità, che le dimostrazioni di forza dell'Italia fascista erano né più né meno un colossale blef sul tavolo da poker della storia. È una frase che rispetto spesso, ma credo sia una frase che renda perfettamente l'idea. E tutto per cosa? Quattro sassi, un po' di miniere, di minerali che potevano essere, cioè insomma pare che ci fossero delle miniere di zinco e di carbone se non ricordo male, e soprattutto alcuni pozzi petroliferi che però fornivano un petrolio estremamente solforoso che necessitava di una raffinazione molto 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 costosa e molto particolare. Insomma, tanto rumore per nulla? Forse sì. Italiani morti per nulla? Sicuramente sì. Un'operazione inutile? L'idea era quella di rendere l'Adriatico un lago italiano. Strategicamente, a livello geopolitico, poteva non essere, anzi non era sicuramente una cattiva idea, ma... 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 valeva realmente la pena di imbarcarsi in una simile avventura? Valeva realmente la pena di prendersi in carico l'Albania? Valeva realmente la pena di buttare altre risorse in quest'avventura? Valeva realmente la pena di dimostrare a se stessi di avere forze armate inefficienti, impreparate, disastrosamente... disastrosamente... scusate... disastrosamente... inefficaci... ne valeva la pena? cioè ne valeva la pena? io non so cosa dire, cioè ripeto, l'episodio dei... cioè l'episodio dei fusti di gasolio al posto dei fusti di benzina è già una cosa delirante, ma la regia nave Giuseppe Miraglia, la porta idrovolanti Giuseppe Miraglia, che portava a bordo tutta la componente corazzata, tutti i nostri carri L3, costretta ad aspettare fuori dal porto perché un'altra nave è arrivata prima ed è attraccata nella stessa banchina dove doveva attraccare per scaricare i carri. Allora, una battuta di Von Rönstedt dell'altero sprezzante del fiero e orgoglioso nobiluomo prussiano che è stato considerato il miglior generale tedesco, dicevo, Von Rönstedt diceva che nell'esercito tedesco i marescialli e i generali italiani sarebbero stati al massimo tenenti colonnelli dell'intendenza. Ma a leggere quello che ci dice brevemente Daniele, a leggere quello che si trova anche su altri libri, Von Rönstedt era decisamente ottimista. Questi al massimo potevano fare i sergenti di fureria. Insomma, che cavolo vi devo dire? Dove volevamo andare? Dove? Dove volevamo andare? E uno dei motivi per cui io mi imbestialisco quando sento parlare di traditori, di tradimento, di potevamo vincere, di responsabili della sconfitta, che non tengono conto di questo. Cioè, se non ricordo male, se non ricordo male, lo stesso messe espresse forti perplessità su come si era svolta l'occupazione dell'Albania. Guzzoni, come abbiamo visto, ebadoglio, dicono, disorganizzazione, problemi logistici, truppe non addestrate, ma con la guerra che incombe, con l'incubo di un conflitto che incombe, con la situazione pericolosa che si stava, come dire, sviluppando in Europa in quei mesi, con le ombre, con l'ombra della seconda guerra mondiale che stava per scoppiare, oramai incombente sul continente europeo, vedi i nostri alti comandi dire disorganizzazione, problemi logistici, mancanza di addestramento, bersaglieri ciclisti che non sanno andare in bicicletta, facciamo qualcosa? Facciamo qualcosa? Vogliamo fare qualcosa? Oh! Ugo! Rodolfo! Mario! Sebastiano! Ubaldo! Ubaldo! Ci siete? Mi sentite? Oh! No! No! Non vedono, non sentono, soprattutto non parlano, perché parlare ed esporre queste cose era pericoloso per le loro carriere, le loro prebende, le loro cariche, le loro poltrone, e quindi si tace, si sta zitti, si sistemerà tutto, ci vorranno almeno due mesi per organizzare le truppe, sì, come no. lo vedremo in Libia durante l'operazione Compass, lo vedremo da lì a poco più di un anno nella tragicomica, nella grottesca, nella orribile campagna di Grecia. bastano poche parole per demolire tonnellate di vaccate nostalgiche sul potevamo vincere la potenza italiana, conquistammo l'Albania. La conquistammo, ma oggettivamente in una maniera di cui non si poteva certo andare fieri. Tutto qua. Bene, signori, abbiamo finito la serie sull'Ajlus italiano, sull'occupazione italiana dell'Albania. Io ringrazio tantissimo Daniele per la sua come dire preziosa opera. Procuratevela, procuratevela perché ne vale la pena. Ripeto, ci sono un sacco di fotografie anche del periodo come dire anche del periodo Albanese, insomma anche del periodo post-armistiziale. Ecco, ah, eccolo qua. C'è persino la foto di Enverosha. colui che diventerà il leader, il padrone, il satrapo, il sultano, il califfo, il signore e dominatore assoluto dell'Albania per più di 40 anni. Lui. Gli ufficiali inglesi che addestravano i partigiani e tante, 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 tante altre immagini. Cioè, giusto per dire una cosa ecco, cioè, anche qua, gli italiani che combatterono a fianco degli albanesi contro i tedeschi dopo l'8 settembre 1943. Una curiosità, questo ragazzo è Vasil l'attentatore che cercò di uccidere Vittorio Emanuele III durante la sua visita a Tirana. insomma, 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 che cavolo vi posso dire? Tanto fumo, poca sostanza. Una curiosità, le foto della milizia albanese, della milizia fascista albanese con il tradizionale zuccotto di lana che è il col tradizionale fez di lana tipico del tipico del tipico del paese balcanico. Il cappello tradizionale tipico del paese balcanico. Insomma, signori, io ripeto non ho veramente veramente parole. Disorganizzazione, miseria, incapacità organizzativa, incapacità militare, incapacità. Anche in un successo, anche se decisamente facile, per usare una battutaccia invadere l'Albania fu un po' come picchiare un uomo mentre caga. Perché questo fu, non stiamo a gelarci attorno, questo fu. Procuratevi questa monografia, breve, sintetica, chiara, precisa, utilissimo punto di partenza per studiare la questione. che vi consiglio che vi consiglio caldamente. Per il resto c'è veramente poco da dire. Una pagina vergognosa. Non posso definirla altrimenti. Tutto qua. Quindi, cari signori, io vi ringrazio tantissimo. Un abbraccio a tutti voi. Se non siete iscritti, iscrivetevi a questo canale e soprattutto un enorme grazie e ciao! Ciao!